Nuovo capitolo nell'intricata vicenda dei pini storici a Benevento. Annullato dal riesame il sequestro preventivo dei 352 alberi lungo via Le Atlantici, via Pacevecchia e via Rosselli. Il provvedimento era stato adottato dal GIP nell'inchiesta conclusa a carico di un dirigente e un funzionario del comune di Benevento che nel marzo del 2019 avrebbero abbattuto in assenza di autorizzazione della soprintendenza 12 pini domestici in zona soggetta a vincolo di tutela. Il sequestro era scattato per il pericolo di abbattimenti generalizzati. Di qui il ricorso al riesame da parte del comune ed ora l'annullamento. Un grande successo, commenta l'assessore all'ambiente Gerardo Giorgione. Abbiamo portato all'attenzione del collegio una serie di motivazioni documentali e di diritto. La mano del diritto rappresentata dall'avvocato Riccio e la mano tecnica rappresentata dall'agronomo Zollo hanno portato a questo eccellente risultato. Nonostante l'annullamento del sequestro, però prima del taglio si procederà ad incontri anche con i comitati ambientalisti. A breve convocheremo anche una riunione perché abbiamo intenzione di concertare con tutti i rappresentanti i futuri interventi. Giorgione infine ribadisce nessun taglio generalizzato, provvederemo alla sostituzione delle piante ormai pericolose presenti in zona. Il futuro non è il taglio degli alberi. Sia chiaro, qua nessuno vuole tagliare gli alberi, ma la sostituzione di alcune essenze per la incolubilità e la tutela delle persone.